Una vicenda giudiziaria ormai un po' datata, adesso c'è una nuova indagine della magistratura dove c'è stata un'iniziativa importante del Comune di Napoli, segno che questo è il Comune della trasparenza, della legalità e della correttezza. Noi siamo molto convinti di aver fatto una scelta anche questa storica e straordinaria per la città di Napoli, nel passato gli amministratori che ci hanno preceduto si affidarono a un privato, esternalizzarono tutto il patrimonio, tanto è vero che noi abbiamo difficoltà ancora oggi a conoscere con esattezza qual è il patrimonio, perché lo stiamo ricostruendo giorno dopo giorno, c'era un imprenditore che aveva il dominio di tutto il patrimonio e adesso delle indagini stanno facendo venire fuori delle cose che abbiamo anche segnalato noi, quindi una scelta direi molto coraggiosa, quella di internalizzare il patrimonio in un momento di difficoltà, avremmo potuto svendere la città per far cassa e non l'abbiamo fatto, abbiamo risanato i conti senza svendere il patrimonio, adesso dobbiamo far funzionare al meglio l'ufficio patrimonio, il Comune, la Napoli Servizi, cercheremo di vincere anche questa sfida, ma siamo veramente soddisfatti di aver posto fine alle esternalizzazioni e a rapporti poco chiari tra pubblico e privato, quindi si è aperta una nuova pagina già da un po' e questa indagine ci incoraggia perché nasce anche con segnalazioni fatte dai nostri uffici.